Sarà bandita nei prossimi giorni la gara per l'assegnazione dell'intervento relativo al primo bilancio partecipativo messo a punto dal Comune di Albenga, primo in Liguria. Il progetto più votato dai cittadini è stato quello relativo alla sostituzione del portone d'ingresso e delle porte della scuola elementare di Via degli Orti, che ha ottenuto 3.471 voti. Soddisfatta per il risultato l'assessore al bilancio Paola Allaria, che evidenzia come il bilancio partecipativo rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione. Una possibilità per i cittadini di incidere, almeno in parte, sulle scelte dell'amministrazione. Il sindaco Giorgio Cangiano ha seguito passo passo l'iniziativa. Spiega Cangiano, l'obiettivo è stato raggiunto e condiviso da tutta l'amministrazione. Abbiamo messo a disposizione 30.000 euro del bilancio comunale. Dopo la votazione degli albenganesi, mi ha dato l'ok con una riunione di giunta alla seconda fase dell'operazione, ovvero l'esecuzione dell'intervento che potrebbe essere programmato, almeno questa è un'indicazione di massima, durante le vacanze di Natale.